Siamo ai mondiali antirazzisti, siamo al venerdì pomeriggio, fermano le partite, qui deve essersene appena conclusa una, adesso facciamo una panoramica, cioè entriamo in mezzo ai campi di calcio, seguitemi, immagina il pubblico, tanta bella gioventù, e la gioventù è bella comunque anche senza entrare in un aspetto estetico. Dove sei? Che squadra siete? Bulgaria, contro chi giocate? Germania, ah ok, quindi abbiamo un Germania-Bulgaria, diciamo una versione nostrana dei campionati di calcio. Bocca al lupo, c'è stato un rigore. Grazie! 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 Grazie!